Se ti piove in casa o hai visto che hai tegole rotte o scivolate, devi assolutamente vedere questo video perché ti spiegherò qual è il metodo più economico per risolvere questo problema. Ciao, sono Mirko di Protetto. Noi facciamo la manutenzione dei tetti senza ponteggio. Se hai problemi sul tetto o se stai valutando un intervento, allora iscriviti al canale ed attiva la campanella per ricevere ogni settimana consigli utili per te. Invece per scoprire subito quanto siamo più rapidi ed economici di qualsiasi azienda tradizionale richiedi un sopralluogo gratuito di un nostro tecnico. Link in descrizione! Oppure chiama il numero verde. Una volta era assolutamente sufficiente avere un normalissimo tetto in copi o tegole per proteggersi dalla pioggia e dagli eventi atmosferici. L'avrai notato anche tu, negli ultimi anni il meteo non è più quello di una volta e ogni volta che piove, ogni volta che piove, al telegiornale senti inondazioni, danni, trombe d'aria e quant'altro. Il meteo sta cambiando per cui gli eventi sono sempre meno frequenti ma quando ci sono, sono molto, molto forti e assolutamente molto intensi. Questa cosa sta facendo modificare anche il metodo costruttivo nel campo delle coperture e nel campo dei tetti. È molto importante adeguarsi ai tempi perché chiaramente è risaputo che le cose funzionano quando si evolvono e quando si sta dietro a quello che sono le novità che nel frattempo arrivano. La copertura in copi e tegole si va benissimo ma deve essere fatta e adattata ai nostri giorni e la metodologia utilizzata deve essere assolutamente aggiornata. Gli eventi atmosferici disastrosi di questi ultimi periodi ci hanno insegnato che anche il sistema di costruzione e di manutenzione delle coperture va adeguato a questi eventi ed è quindi importante andare a intervenire sul tetto, non più come si faceva 20, 30 o 50 anni fa ma con la tecnologia moderna. Negli anni 80 molti tetti si è cominciato a mettere la guaina, cosa disastrosa è che adesso vediamo gli effetti anche deleteriche a questa guaina perché spesso con i venti degli straventi super forti che ci sono in questi periodi addirittura la guaina si alza e vola via andando poi a farmi danni atroci perché poi le tegole finiscono su macchine e su giardini, case e quant'altro. Quindi già dai Romani Michelangelo fino a noi i tetti sono sempre stati fatti con una normale copertura e copiotevole, chiaro che adesso ci troviamo in un periodo storico dove temporali e trombe d'aria anche dalle nostre parti sono all'ordine del giorno, per cui cosa abbiamo fatto? Stiamo cominciando a spostare tutta l'edilizia tradizionale su metodi innovativi che ci danno modo di preservare le case anche quando dovesse esserci un evento straordinario quindi una pioggia molto molto forte oppure del vento forte che potrebbe causare danni al tetto. Fino a qualche anno fa non tutte le tegole venivano fissate per cui finché la pioggia era normale andava tutto bene ma con gli eventi che ci sono adesso quelle tegole non fissate spesso si alzano e volano via con il vento e per cui poi cadono su macchine automobili e bisogna stare attenti perché a volte cadono anche sulle persone. Un altro problema che hanno i tetti e soprattutto i tetti costruiti dopo gli anni 80 è che sui tetti dopo gli anni 80 è stato messo questo telo da protezione, la famosa guaina, che andava a coprire tutto il tetto prima di mettere le tegole. Adesso cosa succede che con questi eventi eccezionali viene il supervento è un po' come la casa di tre porcellini e del lupo che soffia questa guaina quindi questo telo che c'è sotto sotto i coppi si alza e vola via e porta con sé via tutto il tetto per cui negli ultimi anni si è cominciato a non utilizzare più la guaina che crea questo tipo di problemi ma soprattutto si è capito che è importantissimo andare a fissare uno per uno tutte le tegole, tutti i coppi. Molti tetti nuovi infatti sono fatti con sistemi nuovi ad incastro dove le tegole sono assolutamente fissate una per una oppure qua è un sistema che mi piace un po' meno ma si sono messi anche dei gancetti in ferro che tengono una tegola o un coppo attaccato all'altro e quindi fanno sì che se anche c'è un supervento queste non volino via. I gancetti in ferro funzionano molto bene quando si costruisce un tetto nuovo partendo da zero ma se si va a fare manutenzione non sono utilizzabili perché questi gancetti in ferro hanno misure diverse a seconda del tipo di coppo o di tegola che ho sul tetto e spesso se vado a intervenire su un tetto dove magari è stato fatto trent'anni fa poi vent'anni fa qualcuno ha cambiato un po' di tegole poi quindici anni fa ne sono state cambiate nelle altre e quant'altro quelle tegole lì o quei coppi lì non sono mai tutti della stessa misura per cui quei gancetti famosi che vengono utilizzati non sono più possibili a meno che non ci si metta lì a giocare a tetris con la singola tegola il singolo coppo e il gancetto è una cosa un po' problematica farlo a tetris perché poi su un tetto anche piccolo cominciano esserci tre quattromila coppi per cui diventa un mega puzzle che è difficilissimo comporre il sistema innovativo che viene utilizzato adesso è quello di andare a fissare con una tecnologia nuova una per una tutte le tegole e questo mi dà la sicurezza che se anche viene il super temporale o la tromba d'aria o quant'altro tutto il tetto non vola via ma anzi addirittura la singola tegola resti assolutamente attaccata i danni alle persone alle cose nel caso volasse via qualcosa dal tetto possono essere gravissimi e purtroppo abbiamo sentito ancora di eventi assolutamente tragici di persone a cui magari è caduta in testa una tegola o uno scuro o quant'altro per cui assolutamente va fatta prevenzione e le tegole vanno fissate per bene una per una il metodo tradizionale non ti permette di avere le tegole a prova di maltempo e spesso anche se monti un costoso ponteggio e rifai tutto il tetto completamente chi verrà a farti il lavoro lo farà col metodo vecchio per cui comunque ti troverai un tetto nuovo in ordine ma le tegole non saranno fissate una una e c'è il rischio che il primo temporale forte qualche tegola ti voli via quindi come fare per affrontare questo cambiamento climatico che è in corso e adesso togli occhi di tutti e cosa possiamo fare anche su tetti vecchi anche mantenendo quello che c'era prima per andare a correggere quella tecnologia e adattarla al cambiamento climatico di adesso te lo racconto fra poco se stai cercando una soluzione per il tuo tetto se è passato troppo tempo dall'ultima volta che l'hai fatto controllare allora chiamaci subito al numero verde per avere un sopralluogo con preventivo gratuito entro 48 ore oppure clicca sul link in descrizione nel video ti ho detto che il cambiamento climatico è in corso e che la tecnologia ci dà strumenti per poter adattare anche il tuo tetto vecchio a questo a questa nuova situazione che è sotto gli occhi di tutti è il problema grosso sai cos'è che nessuna impresa edile nessun tecnico si forma si informa nessuno ha voglia di cambiare il sistema tutti vogliono lavorare col sistema tradizionale perché mio papà faceva così mio nonno faceva così si è sempre fatto così sì era una cosa che funzionava quando gli eventi atmosferici erano di entità bassa ma non funziona più adesso perché il mondo è diverso le cose sono cambiate e la tecnologia ci dà una mano per poterci adattare a quello che è la novità per cui l'unico sistema perché il tuo tetto diventi a prova di mal tempo l'unico sistema perché tu abbia un tetto adatto alle nuove ai nuovi cambiamenti climatici è protetto perché noi siamo gli unici che vanno a fissare una per una con una schiuma speciale tutte le tue tegole e questo ti dà la garanzia che anche se ci sono eventi atmosferici eccezionali il tuo tetto resta sempre bello solido e in ordine spero che il video ti sia piaciuto ti invito a iscriverti al canale perché nel prossimo video ti spiego perché se hai la guaina sul tetto sei nei guai ciao 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 ciao